Ma questa sera è con noi la regina delle Amazzoni, Elisa Isoardi! Grazie! Vieni, vieni! Buonasera, buonasera, buonasera! Vieni qui Elisa, vieni qui vicino a me, vieni un attimo qui! E' permesso! Benvenuta! Buonasera, grazie di essere qui con noi, come stai? Ciao, che bello! Come stai Elisa? Sei bellissima! Anche tu, bella pranzata, grazie di essere qui! E' un'emozione, è un'emozione vera e sembra di non aver mai fatto televisione, devo dirti la verità! Bene! E' la prima volta che mi affaccio alla società, perché io una volta andata via dall'isola sono salita in montagna con la neve, e quindi è ancora più bello questa parola! Avremo modo poi di ripercorrere un po' la tua esperienza sull'isola! E viva l'isola, e viva l'isola! Grazie! Benvenuta! Grazie! 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 Grazie!